A proposito, Jacopo ci scrive una domanda molto prematura, ma se la Juve dovesse arrivare in finale di Europa League, pensate che avrà un numero extra di biglietti da dare ai propri tifosi in quanto proprietaria dello stadio in cui si terrà la finale? No, scordiamocelo proprio, anzi non so neanche cosa succederà, nel senso che dovesse, io penso che lo gestisca la UEFA e non la Juventus, quindi dovesse accadere, come speriamo, non so neanche come farà la società con i suoi abbonati, nel senso che chiaramente sarà una prelazione per gli abbonati, no, come farà? Non lo so, io non ci voglio pensare, però voglio esserci, se deve essere io ci sarò, a costo di andare a tre del mattino a fare la fila. Questo è il grosso problema del nostro stadio, perché è vero che è uno stadio fantastico, la bombonera, tutto quello che volete, però il problema biglietti, signori, qua a Torino, non so, si sente in maniera pazzesca, la gente non riesce a trovare posto per me allo stadio. Sì, perché poi c'è anche il discorso della prelazione per i premium member, quindi insomma non è così semplice. Grazie.